Benvenuti, so che è pomeriggio, so che c'è abbastanza sonno nell'aria, io non più di tutti, però vabbè, poi dicono che l'occhi è moscia, quindi non è un bene. Ok, partiamo subito. Oggi ci raccontiamo, proviamo un po' a raccontare un modo un po' diverso di provare perlomeno a lavorare tramite il nostro amato e performante linguaggio, cioè javascript, il linguaggio col quale oggi andiamo a scrivere un bel popò di roba, che sia front-end, che sia back-end. Oggi, lo sottolineo per alcuni di voi, parleremo per lo più, anzi quasi esclusivamente, del fronte, diciamo quello che facciamo un po', se c'è anche un mio collega mangia addirittura, tale basso dell'interesse, lo dicevo, parleremo dell'aspetto front-end, ok, affronteremo quella parte. Qui c'è una piccola agenda, basta, non è importante, anche perché non me la ricordo esattamente, quindi andiamo dritti. Allora, prima di tutto facciamo un selfie, perché lo dico oramai abbastanza spesso, la mia compagna mi chiede sempre, facce soddisfatte, poi voi dovete avere la faccia soddisfatta, così che dopo se era una cagata va bene uguale. Vai, ci siete che sono il drago! Ragazzi, se siete così soddisfatti nella vita. ok, va bene, va bene, grazie, questo era fondamentale per poter fare il talk, grazie. Guarda, io dopo questo applauso la chiuderei qui, francamente, mi sento soddisfatto. Va bene, allora, quanti di voi l'anno scorso erano qui a Cam2Code? Ah, un pochino, tu grazie, Piff. Vabbè, perché? Perché diciamo che questo di oggi riprende un po' quello che ci siamo raccontati lo scorso anno, cioè un po' parlavamo dell'architettura di browser e roba di questo genere e c'è stato un talk nel mezzo tra quello e questo e oggi proviamo un po' a chiudere una trilogia. La seconda parte, quindi, non l'avete vista, ma faceva vedere un po' di developer tools e come si identificano alcuni problemi, ma vabbè, ora proverò a raccontarvelo ugualmente. Ok, il problema, quanto è triste il nostro main thread? Quanti di voi incontrano magari il main thread per strada? Lo vedono un po' triste, un po' affaticato, no? Ora tenteremo di capire il perché, magari proviamo a dirlo giusto. Giusto, Pio, caro, tu? Bazza. Ok, il problema precedente è ma che è sto main thread? Penso che se facciamo alzata di mano il main thread dovrebbe essere un concetto abbastanza consolidato. Alzata di mano? Ma non vi ho fatto la domanda, però va bene. Ok, andiamolo a raccontare un attimino, vediamo cos'è in modo tale da identificare il problema. Ok, facciamo un piccolo recap di quello che ci siamo detti per chi c'era l'anno scorso, per chi non c'era. Proviamo a fare un rapido escursus. Ciò che utilizziamo tutti i giorni, cioè il browser, di base è un software realizzato attraverso un'architettura multiprocesso. Non ci sono standard ben definiti per creare un'architettura di un browser, ma tendenzialmente tutti i più recenti browser che andiamo ad utilizzare, in particolar modo quello che poi ha, un rumore tremendo, quello che ha la maggiore, così mi sentite vero, sì, che ha la maggiore effetta di mercato, cioè Chromium, i browser Chromium based, sono basati su architetture multiprocesso. Ok, queste architetture multiprocesso, per farla semplice, ogni processo, parliamo di processi del sistema operativo, non so qui a raccontare perché andremmo un po' oltre, questi processi sono assegnati a dei compiti specifici, quello di cui ci occupiamo è quello su cui noi mediamente come sviluppatori possiamo avere in assoluto più impatto, è quello, quello che poi in realtà sono N, chiamati il render process. Il render process in un browser non sono altro che i processi, la super semplifichiamo, che in ogni tab che apriamo, quindi in i 13 milioni di tab che abbiamo aperti e che non leggeremo mai nella nostra vita, ognuno di questi ha assegnato un render process che si occupa, attenzione quando dico un render process non è esattamente così, ma va benissimo pensarla così, poi andremo troppo nel dettaglio e non è utile, ogni render process si occupa di renderizzare le nostre pagine web, cioè far sì che il flusso di renderizzazione sia il più ottimale possibile, ok? Ora andremo un pochino più avanti. Le operazioni vengono gestite, cioè tutti quelli che vengono definiti task in questi process vengono gestiti attraverso dei thread, quindi in realtà nel caso specifico del render process abbiamo sicuramente, anzi in qualunque architettura, il main thread, cioè quel thread che si occupa di eseguire tutto il flusso di rendering. Ora vedremo che cosa intendiamo come flusso di rendering, ok? avviene questa cosa attraverso l'event loop che dovremmo conoscere ma ci vediamo una ripassatina per far sì che ci si possa portare a casa nel minor tempo possibile quello che viene definito critical rendering path, cioè il percorso che ora vi faccio vedere. Benissimo, qualcuno di voi già conosce bene questi argomenti? Chi non li conosce può restare gli altri? Dico cagate, non si sa mai, va bene. Allora, main thread, diciamo che il main thread è il thread o il contesto di esecuzione in cui, come dicevo prima il nostro render process si occupa di passare fase dopo fase la renderizzazione di ogni singolo frame i cartoni animati come sono fatti? I cartoni animati, il film o qualunque cosa, sono un frame dietro l'altro per far sì che le animazioni siano fluide. Stessa cosa sul nostro browser, deve renderizzare ogni frame nel più breve tempo possibile, ne deve renderizzare per un'animazione fluida almeno 60, ma diciamo questo per oggi non è particolarmente importante. Quello che è importante è cogliere che il main thread per il render process si occupa di gestire la parte di interfaccia utente, l'esecuzione del nostro codice javascript, la gestione dell'interazione dell'utente, quindi tutto quello che è la gestione dei vari handler e via dicendo. In parole povere, se la vedessimo così, tutto il processo che, diciamo, o meglio scusatemi, tutta l'esecuzione di javascript avviene nel main thread, ok? Quindi possiamo pensare javascript come un linguaggio single thread, pacifico così? Ci siamo? Ok. Allora, come vi dicevo nel main thread il browser gestisce user event, gestisce layout, cioè la struttura delle nostre pagine attraverso svariate tecniche, gestisce le fasi di layout, che è una delle fasi di rendering più pesanti del nostro processo di rendering. Quello che viene definito il reflow, che non è quello è un'altra cosa, è la rirenderizzazione, immaginatela, cioè la riesecuzione di alcune fasi del nostro rendering process, anche il garbage collector, quindi quando si deve andare a buttare alla spazzatura, il main thread si occupa anche di quella parte. Ora vedremo esattamente che cosa si intende. Di conseguenza, ragazzi miei, oggi posso dire, ragazzi, senza problemi di conclusione, c'è una donna, neanche a parte di tu, ma tu sei dell'organizzazione, per un pelo, ok? Diciamo che dobbiamo quindi, per far sì che le cose girino in maniera fluida, stare attenti che non succeda quello che viene definito come problema long running javascript, cioè una esecuzione di javascript, la facciamo molto breve, che impiega più tempo del dovuto, ok? Queste possono, mi ricordo la slide dopo, va bene, buona, ci sta, posso continuare. L'esecuzione infatti eccessiva di codice javascript, che abbia un impatto computazionale troppo forte, che è scritta male, cosa più probabile tra le due, fa sì che, diciamo, il nostro rendering process, il main thread sia affaticato, ok? Si affatichi e quindi l'esperienza utente di conseguenza non è delle migliori. Perché? Perché non abbiamo renderizzato il numero di frame opportuno, ok? Allora, tutto ciò, sempre un po' semplificando, avviene attraverso l'event loop. L'event loop, in parole povere, cosa fa nel browser? Quello, sappiamo bene che javascript lavora tanto su browser, tanto su environment, come node, come quelli poi migliori, tipo Dino, tipo Pan, abbiamo due core developer, no uno, forse solo due, sto facendo sempre due. Allora, dicevo, valgono, cioè lavora tanto nell'uno, tanto nell'altro. Quello che è importante cogliere è che dal punto di vista front-end, l'event loop ha dei compiti molto particolari. Perché? Oltre a gestire quello che abbiamo probabilmente visto in un milione di talk migliori di questi, quello più famoso è quello di Archibald, che non so se avete visto, ma è fighissimo, ve l'assicuro. In parole povere, il nostro event loop gira, gira, gira e mai si fermerà, come dicevano in una canzone, gira, gira, gira per eseguire il nostro codice javascript. Credo che dopo ci siano un paio di fasi. La cosa noiosa qual è? Che oltre a eseguire il nostro codice deve anche eseguire le varie fasi di rendering. Quindi non ha solo l'onere di gestire quello che abbiamo scritto noi, ma ha anche alcuni compiti strettamente legati all'architettura del browser. Ok? Infatti il nostro event loop ha due, cioè per grandi linee, ha due macro categorie di task. Il task è l'unità di esecuzione dell'event loop. Diciamo, ogni volta che l'event loop eseguisce qualcosa, esegue, eseguisce, non si può sentire, scusate, io vado a casa, perdonate, esegue, mamma mia, questo tagliamo, se è registrato tagliamo, mi sembra il minimo. Dicevo, ogni singola unità di esecuzione, diciamo così, si definisce task. I task, come c'è scritto qui, possono essere presi dalla task queue, dall'event loop per eseguire qualcosa che abbiamo scritto, insomma, la nostra applicazione, diciamola così per semplificare, ma durante l'esecuzione dei vari task della task queue, il browser ha bisogno appunto di eseguire anche delle fasi di rendering, quindi vengono eseguiti anche dei render step, tutto dentro l'event loop, tutto dentro il main thread, ok? Ad esempio, HTML CSS parsing, quindi il parsing della parte HTML di CSS, la gestione degli input, come dicevamo prima, il compiling e l'esecuzione del nostro JavaScript, grazie agli engine specifici, V8, SpiderMonkey, quello che sia, la gestione dei network data o una parte di essa e soprattutto il rendering step. Questo è più o meno una sintesi di cosa dovrebbe fare un event loop, in questo caso valutiamo solo che un ciclo infinito, non importa, è un ciclo infinito di esecuzione di una coda di task, in realtà c'è una coda più piccola ma molto più sensibile e importante che quella dei microtask, ma noi oggi ce ne ampiamente freghiamo. Ogni qualvolta viene eseguito qualcosa, un task, devono essere eseguiti, se necessari, la parte di rendering, quindi la gestione del frame che dobbiamo renderizzare. Benissimo, queste sono le fasi relative al critical rendering in patto, stampiamocene nella memoria perché ogni qualvolta il browser deve stampare, deve farci vedere un singolo frame, ci vogliono mediamente, deve starci 10 millisecondi, deve eseguire tutte queste fasi, attenzione, per garantire che alcune fasi, prima che il frame sia pronto, vadano rieseguite perché, questo era nel capitolo secondo, ci possono essere delle cose che abbiamo scritto che forzano la riesecuzione di alcune fasi del nostro critical rendering in patto, quindi della patto per renderizzare un frame. Le fasi veramente importanti, signori, quelle soprattutto particolarmente onerose, sono layout e paint. La parte di composite, invece lo dico giusto per dovere di cronaca, avviene in un thread separato, quindi già questo ci fa capire che in ogni modo a livello di architettura del nostro browser, almeno per gestire il frame, almeno ci sono due thread, ok? Quindi già un po' la frase non è esattamente corretta, quella relativa al single thread, ma ora la miglioriamo. Di conseguenza la parte relativa al rendering, tranne la parte di composite, che non importa cosa faccia, compone i layer della nostra pagina, non fa altro che stare a eseguire continuamente sul main thread, continuamente, continuamente, continuamente. Ma quindi, buone notizie, ne abbiamo? Potremmo dire di no, ma in realtà invece ce le abbiamo, se no, diciamo che lo facciamo a fare. Allora, già da tanto tempo, infatti, quello che vi racconto oggi non è una novità, ma anche che c'era stamattina il talk di Edo, ad esempio, ha fatto vedere State of JS, no? Se vi guardate State of JS, quello che ci stiamo dicendo oggi, e ora parleremo dei workers in genere, è una delle tecnologie più vecchie, ma meno utilizzate, d'accordo? Allora, abbiamo la possibilità di lavorare, di tirare fuori dal nostro main thread alcune porzioni di codice e farle eseguire parallelamente, in dei thread a sé stanti, ora capiremo che cosa intendiamo. Di conseguenza possiamo, ufficialmente, dire che possiamo gestire più thread dell'esecuzione del nostro codice e JavaScript, quindi passatemi un po' l'espressione, ma JavaScript, single thread, probabilmente, non lo è. Allora, la soluzione di cui parlavo sono i workers. Quanti di voi utilizzano i workers? in maniera attiva. Ok, uno, due, voi perché fate il back end, quindi i workers? Allora, uno, secondo me, qua, ragazzi, se qualcuno ha da dire qualcosa, intervenite così, cioè, mi piace di più, eh, siamo, c'è la stanza silenziosa, fighissimo. A mio vedere, intanto lo spieghiamo un attimino, i workers non sono altro che la possibilità di attivare... no, lascio qualche minuto... di eseguire dei thread paralleli, quindi prendere un pezzo di codice e farlo eseguire a un altro thread, quindi già automaticamente, anche senza sapere cosa fa, scaricando del lavoro dal nostro main thread, quindi dal thread principale che già ha da fare tutto quell'ambaradana di roba. Ok? Attenzione perché la cosa interessante è che i workers, quindi questa, questa esecuzione parallela, lavora su scope separato, ok? E non utilizzando memoria condivisa, poi possiamo forzarlo a fare, ora dopo, e dopo vedremo, vedremo che cos'è. Di conseguenza, di base, l'utilizzo di questo genere di tecnologia è sicura, ok? Perché ha un suo scope, non ha memoria condivisa, mediamente non ci dovrebbero essere i soliti e comuni attacchi che ci portiamo dietro da mille anni, perché l'attacco è soprattutto su JavaScript, tipo tu dici guarda, sistemo questo, ma spaccio quest'altro, allora sistemo questo, e no, ma spacci quell'altro, quindi è sempre così. Però diciamo che sono sicuri, ok? Esistono principalmente di due tipi, guardate, qui abbiamo il nostro render process che viene preso sotto la lente di ingrandimento, c'è il nostro main thread, che può dialogare con uno o più web worker, che ora vedremo che cosa si intende, e con uno, uno in realtà per scope anche quello, ma non importa, e con un service worker, facciamocelo bastare, ok? Ora vedremo a che cosa serve, perché sono estremamente utili e interessanti, io spero di lasciarvi almeno la curiosità, non mi interessano i concetti, ma la curiosità sì. I web worker non sono altro che dei thread separati, cioè un'esecuzione parallela di un pezzo di codice, la cosa interessante è che io quindi posso prendere un pezzettino del nostro JavaScript, tentiamo di capire quale potrebbe essere più utile, lo metto su web worker e faccio dialogare il web worker, uno o n, dopo vedremo anche un esempio, con il mio main thread, di conseguenza scarico il mio main thread da lavoro e magari un'operazione computazionale particolarmente gravosa, dei calcoli che neanche Einstein o quelli che vanno a, come si chiama il programma, quello lì, quello dove ci vanno i talenti, quello lì, Italia's Got Talent riuscirebbe a fare, grazie, gobo eccezionale, grazie. I web workers possono essere uno o più di essi, li posso chiamare tra di loro, insomma sono una tecnologia molto molto flessibile, esistono anche gli shared worker, i web worker, attenzione, come vi ho detto prima, lavorano in un contesto totalmente isolato, ora vedremo pure che cosa si intende, e danno una memoria gestita indipendentemente, non condividono nulla e soprattutto possono dialogare solo con lo script, ve la sto rendendo più semplice, con lo script che l'ha richiamato, ok? Cioè quello che esegue il worker è quello con cui può dialogare, d'accordo? esistono anche, quindi immaginiamo che se io sto eseguendo uno screen, un web worker su questo tab, avrò la possibilità di gestire il dialogo solo su questo tab, ok? Facciamola così. Esistono anche gli shared workers, c'è un caldo pozzesco qua dentro, gli shared worker invece ci consentono di condividere il worker tra più contesti, ok? L'importante è che stiano contesti sicuri, ora vedremo che cosa vuol dire, che stiano sulla stessa origine, ok? Condividano la stessa origine, ora vediamo che cosa vuol dire. Quindi più finestre o più tab possono condividere, possono sfruttare questo shared worker, ok? Infine esistono i service worker che sono poi quelli più comunemente utilizzati e che un sacco di framework, vedi Angular, vedi un sacco di altri framework, gestiscono un po' sotto il cofano o semplificando moltissimo il lavoro, i service worker funzionano un po' come un proxy, cioè prendono le chiamate che stanno per uscire dall'internet o quelle che stanno arrivando dall'internet e ci danno la possibilità in quel frangente di gestirne il contenuto, il comportamento e quant'altro. Ora lo vediamo. Ah, scusatemi, piccola parentesi, ci sono anche i worklet che sono un argomento a sé stante, ampiamente ancora in lavorazione, se non qualcuno, quindi non lo affronteremo oggi, ma per chi ha la curiosità dopo me lo vuole chiedere, volentieri sì. Ok, in cosa si somigliano? Tra di loro, quindi web, shared e service worker. Lavorano su thread secondari, quello è sicuro, lavorano su thread secondari, non sono, è quello che vedevamo prima, non fanno parte del main thread, ogni thread è un pallino, ok? Quindi lavorano a sé stanti e la cosa interessante è che lavorano su thread secondari e in sandbox, non hanno accesso al DOM e al document, non possono intervenire direttamente, madonna che cazzo, possono intervenire direttamente sulla nostra pagina, ok? Sul DOM. Quindi, diciamo, hanno un comportamento molto sicuro, anche perché tendenzialmente se lavorassero sul DOM sarebbe facile che si scornassero tra di loro, magari andrebbero a modificare contemporaneamente lo stesso nodo e via dicendo, anche per farla semplice. Per sicurezza e anche per inevitabile gestione, non hanno accesso a tutte le web API, ma tanto le web API non le usa nessuno, quindi non è un problema. In che cosa si differenziano? Lo scopo è differente, e ve l'ho appena accennato, i cicli di vita sono molto differenti tra di loro, ma molto differenti, e come vi dicevo prima, più web worker, un solo service worker, ok? Va bene, per adesso va bene così. Vi dicevo, i web worker sono script generici, però sono degli script, né più né meno, vi danno la possibilità di aprire un thread, come è indicato qui, un thread proprio del sistema operativo separato, ok? Il worker è accessibile solo lo script che è chiamato, questo ve l'avevo detto, c'erano un po' di spoiler, e una delle cose interessanti è che i dati che passiamo tra di loro, in realtà non sono passati, ma vengono clonati, cioè il dato che passo sul web worker non è lo stesso dato che ho nel mio script principale, viene passato. Su questo ci sono delle eccezioni, e dopo lo vedremo, perché è particolarmente interessante, faremo una distinzione tra due tipi di passaggio, ok? Allora, quando utilizziamo i web worker, quando ci vengono molto comodi, come vi dicevo prima, elaborazione intensiva dei dati, supporto al rendering, molto spesso vengono utilizzati, c'è ad esempio, come si chiama, Figma, i vari Figma, questi software, tu dici, ma come cacchio fanno queste cose? Cioè che io faccio un drag and drop e mi si pianda tutto, e questi fanno cose della lua. C'è un intensivissimo utilizzo di questa roba, calcoli paralleli, generazione, ad esempio molto utilizzato nella crittografia e nella sicurezza, perché c'è un alto impatto computazionale, in quegli ambiti, e via dicendo. Quindi, un web worker, l'index JS, il worker JS, viene, ora c'è anche il codice, viene caricato un worker, quindi viene detto dallo script principale, oh, dammi una mano, caro worker, a un certo punto, gli possiamo passare i nostri dati attraverso il metodo post message, e dopo vedremo, il dato, come vi dicevo prima, non viene passato, ma viene copiato, viene lavorato, fa quello che vuole, e a un certo punto, ci ritorna il risultato che noi andremo ad ascoltare, non c'è un clicker, è vero, non mi serve mai oggi che mi serviva, no, e l'on message, cioè l'on message sta in attesa di ascoltare quello che arriverà dal worker, ok, banalmente il codice è estremamente semplice, ovviamente, perché l'esempio è semplice, ma già questo ci può fare cogliere quanta semplicità ci può essere dietro, poi ci sono tante complessità, viene, scusate, lo faccio da qui che mi viene meglio, viene eseguito un worker, viene mandato attraverso il post message, un messaggio con dei dati che devo passare, e mi metto in ascolto della risposta, dopodiché, esploso tutto, mamma, che può comunicare, e a un certo punto gli torniamo, sempre attraverso post message, gli ritorniamo, il nostro risultato che verrà preso dall'handler, tutti felici, contenti, il nostro lavoro è andato a buon fine, attenzione ad un paio di cose che dopo vedremo, perché in realtà le cose non sono così elementari e si complicano, ma non importa per adesso, shared workers è un po' quello che vi raccontavo, è un po' quello che vi raccontavo, vado un pochino più veloce, i worker shareati vi danno la possibilità di avere l'accesso, quindi chiamiamola comunicazione, con più contesti, più finestre, più tab, come vi dicevo, quello che è veramente importante, è che devono condividere, come vi accendiamo prima, la stessa origin, per un discorso di sicurezza, cioè la triade tra il protocollo, host e porta, ok? Si comunica attraverso delle porte, ora vedremo che cosa si intende, l'API è fatta così, ora lo vedremo, e basta, ve lo faccio direttamente vedere, accelero un po', così provo a farvi un quadro più complessivo della cosa, qui facciamo un po', scusatemi, un po' di progressive enhancement, qui stiamo a controllare se i nostri shared workers sono supportati, gli shared workers non sono stati supportati a lungo, ad esempio da Safari, ok? E ancora forse qualcosina non la supportano, e comunque non tutte le API dei vari workers sono supportati da tutti, dopo vedremo il perché, eseguo ancora una volta gli shared workers, questa volta comunico, sempre attraverso post message, con una porta, perché chiaramente quello share, quindi deve aprire più porte, con le varie fonti con le quali deve dialogare, diciamo così, stesso comportamento identico, molto analogo, c'è questa differenza, dopo vedremo un altro modo di dialogare, qui nel nostro worker abbiamo un comportamento analogo, qui andiamo a puntare la porta con la quale sta dialogando, ancora una volta, quando arriva un messaggio, facciamo un'operazione che vogliamo, non è importante in questa occasione, e ne riportiamo il risultato, rimandiamo il risultato al nostro script principale, ok? Web shared worker, cosa sape bello, perché a Catania dovete capire che qualunque cosa non è bella, ma sape bella, e quindi ci tenevo a sottolinearvelo, migliore utilizzo delle risorse, scarichiamo il main thread, maggiore stabilità e affidabilità, verissimo, se il main thread è scaricato, in qualche modo riusciamo a rendere più prestante la parte di main thread, maggiore sicurezza, sì, o meglio, scusatevi, maggiore sicurezza, sì, perché senza i limiti che vi dicevo prima, il worker non c'è, non parte, non si avviano, ok? Quindi la sicurezza è garantita sotto questo punto di vista, dopo vediamo una cosa che ci fa capire anche come queste cose a volte non avvengono di loro, così per miracolo, maggiore distribuzione del carico, nessuna memoria condivisa, in realtà abbiamo un dialogo condiviso attraverso gli shared worker, dopo vedremo invece come condividere. Cosa è brutto? Il supporto ai browser, come vi dicevo, non tutte le API di tutti i worker sono sfruttate da tutti, accesso limitato a DOM, overhead di comunicazione, perché la comunicazione con i worker ha un peso, e dopo vedremo che cosa intendiamo, debug più complesso, oggettivamente è una cosa che ho tutta la roba da una parte, una cosa che ho più thread separati, o comunque più processi che si eseguono, e quindi, scusate, per processo intendo non processi del sistema operativo, intendo più roba da smazzare parallelamente, comunque sempre asincro, e quindi più difficile. Complessità nel codice, qui c'è un punto che dice serializzazione e deserializzazione, perché uno dei modi per passare le informazioni, e anche l'algoritmo che passa queste informazioni, fa comunque della serializzazione e della deserializzazione, nessuna memoria condivisa. Questo è come scaricare per prendere la roba pesante e metterla da un'altra parte, ok? Chiaramente c'è un mondo, l'importante è coglierne il valore in questo momento. I service worker invece hanno un comportamento molto diverso, come vi dicevo, risultano essere come una sorta di proxy, praticamente le chiamate che vanno verso internet, le possiamo veicolare a un service worker, cosa interessante, che può avere fondamentalmente, può fare tanta roba, però diciamo il comportamento principale è quello di far passare a sua volta le chiamate verso internet, scusatemi, ve la dico meglio, dal main thread facciamo le chiamate che vanno al service worker, che poi escono su internet, come fanno non è importante. La cosa interessante è che il service worker, ad esempio, quando parliamo di questo genere di comportamento, ha anche la possibilità di appoggiarsi a una cache, attraverso la cache API, che non è la cache canonica del browser, è un API, ok? E che ci consente quindi di gestire anche, secondo le nostre decisioni, secondo le nostre regole, come comportarci, cosa fornire via cache, cosa gestire e facendola passare, ci sono un sacco di strategie che possono essere messe a terra. Allora, i service worker hanno dei compiti, quelli più comuni, la gestione della cache, come vi dicevo, le push notification, le API di gestione e le push notification, sono due, cioè vengono utilizzate nei service worker, perché? Perché il service worker ha una caratteristica molto particolare, che ora vi andrò a dire. Hanno, possono gestire il sync dei dati in background attraverso delle interessanti web API, hanno un life cycle programmabile, cioè possiamo decidere come il suo ciclo di vita può comportarsi, e vabbè, anche questo è un processo separato e consente di gestire gli S-modules, d'accordo? Vado un pochino più veloce. Allora, la cosa veramente differente, oltre ad essere un proxy, è che i service worker, ragazzi, vengono mantenuti in vita dal browser. Com'è che se anche, ora, nessuno al mondo attiva le notifiche su browser, lo sappiamo, ne teniamo, nessuno, ci sono delle API stupende, inutili, totalmente inutili, perché non le attivano nessuno, ma se voi attivaste questo genere di cosa, vedreste che anche se non avete la vostra pagina attiva, le notifiche vi arrivano, no? Questo come avviene? Il service worker, a differenza dei worker che abbiamo visto prima, che muoiono quando chiudiamo i loro contesti, questi vengono mantenuti in vita dal browser, cioè il browser, sotto il cofano, vediamo se riesco a farvi vedere una cosa, sotto il cofano, riescono, questi ad esempio sono i service worker, madonna, non si è giunto un po', ma non importa, sono i service worker attivi sul browser in questo momento, ok? Sono di roba che sicuramente non sono, non è attiva in quel momento, ma il browser, secondo delle sue priorità, secondo il carico che ha in quel momento, secondo anche delle euristiche, mantiene in vita. Di conseguenza, possiamo in qualunque momento ricevere le nostre, come possiamo vedere qui, ricevere le nostre notifiche, ad esempio, semplicemente perché il service worker lavora sotto il cofano, ci pensa il browser a ottimizzare le risorse, non scriviamo codice, merda, perché sennò creiamo sempre danno e il nostro browser, chiaramente, ci vieterà tanti e tanti comportamenti, ma il succo di base, è questo. Un service worker deve essere registrato, come vi dicevo, un life cycle programmabile, a svariate fasi, deve essere registrato, deve essere attivato, deve essere installato, e poi può fare il fetch, ad esempio, delle varie risorse. Questo perché, perché, vado abbastanza velocemente, però vi volevo far vedere questo, in realtà, una volta registrato, un service deve essere installato e attivato. Ci si potrebbe chiedere, ma perché mi servono due fasi a posto di una installa, ciao, basta, perché la cosa interessante è che il service worker, voi lo potete aggiornare, potreste avere la necessità di un ventilatore, ad esempio, potreste avere, no scherzo, scherzo, no no scherzo, scherzo, potreste avere la necessità di fare delle modifiche, cambiare il comportamento della cache, delle vostre API, e via dicendo, quindi, dovrei poter installare, richiedere un nuovo, o meglio, ottenere un nuovo service worker, quello fino a che c'è qualcosa attiva, se ci sono dei contesti attivi, mantiene quello precedente, perché se no, ci sarebbe incongruenza nel comportamento dell'utente mentre sta utilizzando la pagina web, ma appena il browser ritiene che può attivarlo, pum, e lo attiva, d'accordo, ci sono dei meccanismi, normalmente l'avvio successivo alla chiusura di tutti i contesti, ok? Benissimo, è possibile comunicare con i workers, in particolar modo, queste cose, questo giro di comunicazione interessante per i service worker, con tre API, in particolar modo, prima abbiamo visto il post message, quello per i worker, ma abbiamo a disposizione delle web API, molto interessanti, vado veloce, la prima è la broadcast channel, noi la possiamo immaginare proprio come un broadcasting, mi creo un canale broadcast, attraverso il service worker posso mandare dei messaggi e chi è in ascolto, quali sono i tab, quindi è un modo anche per share delle informazioni tra vari contesti, possono prendersi carico iscrivendosi al broadcast channel, come si fa? semplicissimo, ancora una volta, ripeto, gli esempi sono chiaramente semplici, ma proviamo semplicemente a spiegare, si crea un broadcast channel con un nome, si fa un post message di un oggetto, in questo caso viene mandato un oggetto, e ancora una volta stiamo in ascolto del messaggio, se ad esempio il message ID, il type ci corrisponde, quindi abbiamo creato il nostro channel e abbiamo il nostro, non mi viene il termine, perdonatemi, scusatemi, non mi viene il termine, insomma, riusciamo a identificare che il messaggio è di nostro interesse, noi andiamo a prendere carico, d'accordo? Questo è interessante perché è un modo per far dialogare tra di loro anche più tab, ok? Senza passare ad esempio da un service worker, e la broadcast channel tra l'altro è un API piuttosto, è ampiamente supportata, scusate, e le client API è un altro tipo di API, i service worker hanno la possibilità di capire quali sono le tab aperte, le chiama client, che fanno riferimento a se stesso, a sostanzialmente un elenco di questi client, e gli può mandare dei messaggi, semplicemente luppandoli, d'accordo? Controlla quali sono i suoi client, fino a che ce ne sono di attivi, cioè ci sono delle pagine attive, delle pagine, delle tab, e a quel punto ha la possibilità di mandare eventuali messaggi e quindi un altro modo per comunicare, attenzione, comunicazione two way, anche il client può comunicarlo, ok? L'ultima, quella più vecchia, è la message channel, l'API, quella con cui si dialoga veramente da tanto tempo, due porte da due lati e si può comunicare attraverso questa sorta di corridoio che c'è tra le due porte, d'accordo? si potrebbe parlare di workers, ma noi abbiamo pochissimi minuti, si potrebbe parlare di workers veramente per ore, ragazzi, perché chiaramente qui stiamo toccando veramente la superficie, ci sono anche un sacco di librerie in particolar modo, ce ne sono un paio, una, se non mi ricordo male, quella dei workers si chiama Comlink, quella, tra le più famose, quella di, quella dei service work, ma ragazzi quanto sono diventato vecchio, ah, grazie, workbox, scusate, sono un po' fuori fase, vi danno la possibilità di astrarre tutta questa complessità, d'accordo? E quindi creare una comunicazione più agevole, soprattutto ad esempio nei service worker, riuscire a gestire le varie strategie di caching che per quello ci vorrebbe un talk a parte, è molto più semplice e molto più agevole, d'accordo? Però c'è una cosa che vi voglio dire, prima ho detto una cosa e cioè che comunque raga, che era uno dei contro, la comunicazione tra i worker è un peso che dobbiamo sopportare, perché anche semplicemente immaginando, se un oggetto va clonato, se un, il dato che vogliamo passare va clonato serve tempo, sarà infinitesimale, ma serve tempo, se questa comunicazione avviene in maniera importante, chiaramente questa cosa può impattare, ok? La cosa interessante però è che innanzitutto non tutti gli elementi, chiamiamoli così le entità, chiamiamoli così, vengono passate come copia, ad esempio vi dicevo prima i dati vengono serializzati attraverso un algoritmo che si chiama structured cloning, che dopo vedremo anche una piccola chicca, che non fa altro che prendere ad esempio l'oggetto che passate e clonarlo proprio che crearne un'altra copia, d'accordo? Se voi andaste sui developer tools questa fase di copy nel dialogo con i workers probabilmente nessuno guarda la sezione workers nei developer tools nel pannello performance perché c'è un pannello performance? Sì c'è un pannello performance è quello che quando l'aprivo fate no non lo voglio guardare è quello lì esattamente quello lì lì trovate questo passaggio questa esecuzione come un piccolo frammento di tempo necessario esistono anche degli altri tipi di oggetto che si chiamano oggetti trasferibili cioè praticamente sostanzialmente per quegli oggetti non vengono clonati sono degli elementi ad esempio i type ed array non vengono clonati bensì viene passata l'ownership cioè sostanzialmente l'oggetto da che era in un contesto ad esempio era semplifichiamo nel main thread viene passato direttamente al worker che ne prenderà carico d'accordo? questa cosa è molto più semplice no? non è una cosa che dovete fare voi o meglio nel post message è una cosa che potete decidere di fare d'accordo? non con tutto ovviamente passare l'ownership è molto più veloce di clonare qualunque cosa immaginate una roba molto grande ma anche un buffer da un mega e dico viva e viva ok allora andiamo velocissimamente perché abbiamo tipo tre minuti ah ah allora aspetta allora aspetta fermi tu ok allora no ok però mi è fatto molto piacere che abbiamo stato grazie allora ragazzi la facciamo abbastanza breve madonna che caldo allora qui c'è scritto o meglio scusatemi torno un attimino prima di conseguenza quando è necessario dialogare che non ci sia una memoria condivisa può essere un limite in questo caso cosa ah che la memoria non sia condivisa in quel caso può essere un limite perché e ora quello di cui di cui accenneremo ad esempio è molto utilizzato ad esempio in contesti webgl dove c'è necessità di grande passaggio di informazioni dove magari andiamo a passare interi frame pre-renderizzati di una nostra applicazione webgl o calcoli impattanti che tornano matrici no non lo so sto dicendo una cosa come un'altra però dove c'è un grosso passaggio di informazioni quindi la serializzazione sarebbe pesantissima in quel caso avere un spazio di memoria condivisa invece può essere cosa buona e giusta attenzione ad una cosa la cosa che è interessante anche più dell'utilizzo tanto lo accenneremo e basta è fare una riflessione gli shared array buffer non sono degli altri che dei buffer ok di dati raw quindi diciamo di byte che danno la possibilità di essere di creare uno spazio di memoria condiviso quindi più entità possono andare a pescare da questi array ora vedremo quello che è veramente interessante ragazzi però al netto dell'utilizzo anche perché sono utilizzi molto hardcore ok però c'è una cosa interessante vi ricordate quando c'è stato meltdown e spectre i due attacchi benissimo spectre ad esempio è stato un attacco che per il contesto dei browser andava di intaccare oh scusate sono andato avanti andava di intaccare moltissimo queste API che cosa hanno dovuto fare i tizi ad esempio di Chrome hanno dovuto buttare giù le API hanno detto signore mi dispiace non si può usare fino a che non hanno fixato i problemi rendendo come vi dicevo prima il contesto quindi limitandoli un po' in un contesto di esecuzione sicura e a quel punto le hanno potute riattivare con questo che messaggio vi voglio lasciare che comunque soprattutto le cose che vengono messe sui browser hanno le web API ma anche lo standard perché anzi scusate più che lo standard delle implementazioni del linguaggio javascript perché viaggiano con una da parte nostra soprattutto gli utenti non se ne accorgono ma da parte degli sviluppatori lenta quello che noi prima non mi ricordo con chi parlavo potrebbero starci molto meno ad implementare le cose però poi succedono cose come questa questo è un caso chiaramente abbastanza borderline ma succedono cose come questa e tu magari hai tirato su un'applicazione pazzesca che puntava su quella funzionalità e basta per questo esiste il concetto di one javascript no? cioè javascript esiste dal cos'era 96? dal 96 a oggi javascript è sempre quello nel senso che lo standard si è evoluto quante deprecazioni ci sono state credo si possano contare sulla punta di due mani sulla punta di due mani perché non può finire non potete si dice don't break the web non potete rompere il web oltre che ma no è un'altra storia mamma mia che ansia va bene va bene ok per chiudere quindi queste shared array buffer vengono diciamo composti da due parti diciamo così la prima parte è il buffer in senso stretto cioè il contenitore dei byte dei dati grezzi ok che posso a quel punto manipolare quello che può fare il buffer è poco più che contenere i dati perché ci sono delle altre strutture chiamate view che possono attraverso i tab ed array ci danno la possibilità di manipolare questo buffer e la cosa interessante è che ci danno la possibilità di manipolarlo appunto lavorando direttamente sui byte ma prendendone anche una porzione del nostro buffer prima al volo ho riprodotto potevo mettere l'immagine direttamente di MDN ma cioè dico dopo che mi sono levato la salute a fare tutte le slide così ho detto proviamo a disegnare un po' una cagata ma non importa giusto per farvi capire un array buffer di 16 byte può essere visto con più generi di vista ad esempio con con un array con un int array un int 8 di 8 byte quindi di 8 bit scusatemi quindi soddivido il mio buffer in 16 posizioni che posso andare a interrogare ne vedete 15 perché parto dall'indice 0 se passo a 16 bit mi sposterò su 8 allocazioni 4 e 2 per arrivare a 64 ora sono disponibili anche i big int ok che sono numeroni pazzeschi che non sapremmo mai leggere ok questo per darvi la possibilità di dire che ad esempio con un buffer array di questo genere io potrei strutturare la mia informazione dentro quel buffer e leggerla sapendo che in quella posizione troverò in quella posizione magari sfruttandone che ne so un array da 16 bit la prima posizione che andrebbe a includere due posizioni se fossero gli array a 8 bit ok giusto per magari potrei tenere nell'ultima parte del mio buffer non lo so l'oggettone che devo elaborare cazzi mazzo ok scusate io dico un sacro parole che cosa tremendo tu questo mi devi moderare ok qual è il punto immaginiamo chiaramente tre minuti immaginiamo chiaramente il punto tre minuti immaginiamo chiaramente che se più più persone potessero pescare da una stessa scatola potrebbero probabilmente allacciarsi le dita no cioè si potrebbero scornare tra di loro per gestire un ordine in questa in questa genere di pesca all'interno di uno spazio condiviso esistono delle API chiamate Atomics che vi consentono di gestire il dialogo con questi array buffer un po' come se fossero delle transazioni su DB ok giusto per capire cioè consentono di mettere un ordine nelle varie operazioni che vengono fatte ora faccio un esempio super rapido non abbiamo tanto tempo se volete se qualcuno è interessato gli possiamo dare un'occhiata non è nulla di complicato ma il succo in parole povere che più worker hanno la possibilità scusate lo devo leggere qui perché non riesco proprio a leggere hanno la possibilità ad esempio di memorizzare attraverso queste API Atomics che sono tutti metodi statici di questo scusate di queste API Atomics hanno la possibilità ad esempio di scrivere su delle posizioni di questo array non importa come è fatta l'API fregatevene e a un certo punto di dire attenzione ho modificato l'array gli altri magari che sono in pausa le altri contesti di esecuzione che sono in pausa prima di poter scrivere o di fare le operazioni potrebbero dire ok ha modificato possiamo agire giusto per darvi un'idea uno degli esempi più comuni che troverete ad esempio dell'utilizzo delle Atomics è come creare un imutex quindi dare la possibilità di far passare o meno cioè di far eseguire solo un thread a una determinata operazione avere la sicurezza che c'è un solo thread che sta pescando da quei dati perché magari ripeto ci si potrebbe intrecciare le dita e sfilacciare un po' quei dati come non vorremmo magari vedendoli contemporaneamente con delle viste diverse quindi magari tu le vedi come prima posizione da 8 bit io a 16 abbiamo combinato un macello d'accordo come tutti i contesti multi-thread la complessità si eleva tantissimo questo manca a dirlo i background services ragazzi ce ne sono un botto andatevele a guardare se avete voglia ma moltissime cose moltissimi degli utilizzi soprattutto dei service worker ma anche dei worker fanno grande utilizzo di API ad esempio background sync e periodic background sync vi consentono di fare sync sotto il cofano senza che voi abbiate chissà che onere o fare polling o qua e della mantenendo tra l'altro questa cosa attiva sui nostri service worker quindi anche quando il lavoro non esiste anche scusate quando i nostri tab non sono aperti anche qui il browser ha sempre priorità di decidere che se ve lo deve ammazzare ve lo ammazza ce ne sono tante altre ok poco importa in questa occasione ho finito il tempo immagino va bene io vi ringrazio sono Francesco Sciuti lui mi ha presentato abbondantemente prima qua c'ho dei colleghi che voglio ringraziare ah qua c'ho c'ho dei colleghi cosa muociano non lo so un applauso per Francesco Sciuti non ho finito non ho finito ho dei colleghi che volevo ringraziare noi siamo Demi una una piccola realtà però siamo a Catania però ci teniamo un sacco a provare a fare le cose al nostro meglio io diciamo sono quello che ci mette la faccia Andrea è il mio socio e qua ci sono Angelo e Fabrizio ma non li dico per presentarvi ma ve lo dico perché io sono orgoglioso della nostra realtà di una sola cosa non facciamo cose strafighe ma facciamo qualcosa però siamo esattamente come ci disegniamo e anche per questo mi posso permettere di dire queste cose davanti a delle persone che lavorano con noi secondo me questa cosa è molto più bella di fare le cose della luna quindi siamo veramente delle persone che hanno voglia di fare le cose bene basta noi facciamo sviluppo front-end e mobile principalmente e facciamo formazione su questi ambiti scusatemi c'è Cosmotion a fine ottobre io mi occupo dei contenuti se volete partecipare alla conferenza credo ci siano ancora biglietti o anche qualcosa per le community quindi se volete avete voglia la sera ci abbiamo i post-create la sera faccio Batman non ve lo vorrei dire ragazzi l'algoritmo di cui vi parlavo prima quello di copia per i worker che viene utilizzato i worker ora è possibile utilizzarlo anche per fare deep cloning di oggetti cosa che prima magari facevamo con l'API di serializzazione e deserializzazione dei JSON o con tutti gli ambaradani ho finito ho finito di minacciare quindi potete utilizzarla ad esempio le funzioni non vengono clonate ma dei plain object è la soluzione assolutamente da portare a casa grazie a tutti questi sono dei link mandate il feedback perché se no mandate il feedback grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!